La comunicazione è cambiata, oggi passa attraverso i social, il marketing è cambiato, gli agenti immobiliari lo sanno perché utilizzano i social media per le loro agenzie immobiliari e a maggior ragione la federazione deve essere presente su questa piazza 2.0 che poi porta come in questo caso pubblico agli eventi della federazione, quindi noi vediamo i social come uno strumento di aggregazione che poi deve essere fatta nel mondo reale. Noi proponiamo lo strumento della presenza sui social più rappresentativi, la federazione si sta muovendo con una sua pagina Facebook che è molto cliccata, che è la pagina FIAIP ufficiale, con un gruppo riservato agli associati FIAIP che ha più di 1000 associati e è in crescita dove c'è un dibattito in tempo reale su tutti i temi della nostra professione e della federazione e poi siamo presenti su Twitter, su Instagram, su LinkedIn e su YouTube, diciamo i principali social media. Questa è la proposta che noi facciamo e una lista broadcast su WhatsApp per essere sempre in contatto con i nostri associati con le nostre ultime novità.